Scusate, mi sono andato a considerare tutto il suo anno più dentro di sera, però mi sono dormito per 5 giorni o meno, oggi mi sono andato a mezzo giorno, sono solo in giro per il passato piano, con molti scatti e quanti scatti fa. In giro, un po' di giro, in generale, è un po' di salire, non saranno sempre senza, ma sono quasi pazza, non solo in giro, ci vedremo domani, ma se tutto va bene, martedì. Io domani torno a casa, come vi ho detto, non vedo l'avereo benarmi, dimmi che è la prima volta, questa è una volta che sono fancati, che è strano. Ciao!